Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, non c'è Francesco oggi con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. In questa trasmissione noi parleremo, andremo avanti con i discorsi che abbiamo cominciati la volta scorsa a proposito della relazione fra l'uomo e il mondo e la relazione, l'attività della stragoneria come la stragoneria si inserisce nella crescita e nel divenire dell'uomo e dobbiamo fare questi discorsi di stragoneria proprio perché dal momento che i cristiani distruggono, uccidono, massacrano quello che è il divenire dell'uomo, la sua capacità di rapportarsi nella vita, l'unica possibilità che ha questo sistema sociale, che ha la vita dell'uomo è quella della stragoneria e la stragoneria è l'arte di vivere, cioè è l'arte di affrontare l'esistenza umana con impegno, con passione e con determinazione. In questa trasmissione parleremo dei bambini e vedremo come la stragoneria riesce invece a individuare l'arte della crescita, l'arte del divenire, l'arte della trasformazione proprio perché la stragoneria è in grado di guardare l'altro, cioè di vedere le altre persone, vedere il mondo che ci sta attorno, vedere le sue trasformazioni, la sua crescita. Ciò che invece non può fare il cristianesimo che costringe gli individui a considerarsi creati di magna e somigliante da un dio padrone per cui li separa dalla vita, li separa dal mondo e li porta a distruggere le loro capacità psichiche ed emotive, oltre che a distruggere i loro corpi, comunque con tutte le strategie di distruzione dell'uomo che il cristianesimo vede in atto. Prima di iniziare questa trasmissione, che va avanti con la trasmissione precedente, vi do alcune notizie di appuntamenti. Innanzitutto sul giornale del mattino di Padova di oggi, le pagine di Montegrotto, pagina 29, viene dato l'annuncio, in breve, negli annunci brevi naturalmente, del convegno del MUT dei Vicca, a cui partecipano anche i pagani, che ci sarà questa sera, alcuni pagani almeno, che ci sarà questa sera a Montegrotto. Dice il mattino di Padova, pagani, Montegrotto, pagani e Vicca, stasera alle ore 21 al pub Inbolc in via Aureliana, è in programma l'incontro mensile dei pagani e Viccan Veneti. A quello che mi ha detto Francesco, Francesco non può essere in trasmissione per ragioni di lavoro, praticamente sono stati unificati due incontri mensili che venivano tenuti in diverse zone, uno era già stato tenuto precedentemente a Montegrotto e un altro era stato tenuto precedentemente a Marghera. I due organizzatori sono messi d'accordo per fare un incontro unico a Montegrotto Terme e l'incontro è per questa sera alle ore 9, diciamo così, presso il pub Inbolc in via Aureliana. Questo è per quanto riguarda il dovere nei confronti di Francesco e di Vicca. Poi ci sono gli appuntamenti nostri e niente, in programma avevamo tentato di organizzare per venerdì 24 febbraio qui a Radio Gama 5 il dibattito chiedersi il perché delle cose, però mi hanno comunicato che la sala di Radio Gama 5 è occupata, per cui il dibattito gli chiedersi il perché delle cose viene posticipato. Io ho già un'idea su quanto posticiparlo, non di moltissimo, però devo sentire se la sala è libera e disponibile. Comunque a un limite nella trasmissione di questa sera vedrò se riesco a mettermi d'accordo, a vedere quando è la sala e poi comincio a dare l'annuncio. Comunque il prossimo dibattito è chiedersi il perché delle cose. Poi invece, questo è sicuro, sabato 25 marzo, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo il rito della nascita e il rito delle quinozze di primavera. E qua riprenderemo riti pagani, cioè come viene fatto, e per la prima volta il rito verrà fatto con la presenza della statua della nicchia che abbiamo portato. Questo comincia a prendere forma, comincia a prendere dimensione quello che è l'altare pagano, quello che è la forma del Bosco Sacro. L'appuntamento dunque è per sabato 25 marzo, presso il Bosco Sacro di Jesolo. Il rito praticamente ricalcherà assolutamente quelli che sono i riti precedenti del equinozio di primavera e ve li potete vedere in internet. In internet trovate tutti i riti che abbiamo fatto, tutti gli schemi di riti e trovate anche le invocazioni che usiamo per il rito della nascita. Il rito della nascita di primavera è il rito della nascita di tutto, cioè dell'universo, della vita, delle persone, dei soggetti, della natura. Per cui è il rito della nascita. Sarebbe un rito ad aurora, praticamente all'inizio delle cose, cioè le cose continuamente hanno un inizio, ogni giorno è un inizio, ogni istante è un inizio, in ogni momento si inizia ed è l'inizio di ogni cosa. Praticamente sarebbe anche quel concetto di eterno presente che non è un presente in oggetto, in manifestazione in se stesso, ma è un rinnovarsi continuo delle cose perché quando si parla della nascita si parla di un rinnovamento, l'inizio di affrontare la vita. Ed è un'indicazione che viene data dal punto di vista religioso del paganesimo a tutti i pagani. Siamo sempre un inizio, siamo sempre una nascita. Prima eravamo inconsapevoli, oggi siamo più consapevoli e da questa più consapevolezza iniziamo il nostro percorso. Ed è l'eterna Eos, Eos dalle dita e dalle braccia rosa che ogni mattina apre il nuovo giorno. Ed è l'aurora praticamente. E questo concetto, che è un concetto fondamentale del paganesimo, perché i pagani non sono creati ad immagine somigliante a un dio pazzo cretino e deficiente, ma sono il prodotto di tanti sforzi, di tanti inizi che hanno attraversato la vita, che hanno attraversato la natura in continuazione e che la attraverseranno sia che noi vogliamo o sia che noi non vogliamo. E questo è il rito del 25 marzo, che è il rito dell'equinozio di primavera. Bene, allora detto tutto questo, e staremo un po' a vedere dopo in seguito per il dibattito quando lo teniamo. Iniziamo la trasmissione di oggi. Il concetto è muore il feto. Abbiamo già parlato nella trasmissione serale di giovedì scorso sull'attività fetale, cioè l'attività di crescita psicofisica del feto. E siamo arrivati a parlare oggi del bambino. detto per inciso, nella trasmissione di giovedì scorso, quando ho parlato dell'interazione fra uomo e natura, cioè che le forze della vita le troviamo nell'uomo come le troviamo in tutti gli esseri animali, detto così per inciso, non vi leggo l'articolo ma ve lo accenno soltanto come titolo, domenica 5 febbraio 2006 dalla Repubblica viene fuori un articolo Gioia e lutti, gli animali con l'anima. Naturalmente abbiamo la feccia cattolica che si precipita a dire ma quel dolore è diverso dal nostro. Bisogna sempre dire che l'uomo è diverso perché l'uomo è creato di immagini e somiglianze a un Dio padrone. Non abbiamo gli stessi occhi, gli stessi, il stesso cuore, il stesso cervello che poi si costruisce sedimentandosi l'uno sull'altro e non siamo il prodotto della natura. La natura quando trova un meccanismo che funziona, lo riproduce in tutti gli esseri, perché per esempio tutti gli esseri hanno il fegato, cioè tutti gli esseri mammiferi hanno il fegato, semplicemente perché è un organo funzionale a quella specie. Per cui ci chiamiamo tutti i mammiferi, fra le altre cose abbiamo il fegato, cioè un meccanismo che funziona, cioè il fegato in un organismo viene riprodotto dalla natura in tutti gli esseri. Per cui se la natura riproduce in tutti gli esseri quelli che sono i meccanismi della vita, anche il meccanismo del dolore, al di là di come soggettivamente viene ricepito dalle singole specie e l'importanza e le stimolazioni che le singole specie ne ricevono è un meccanismo che la natura ha riprodotto in tutti gli esseri. E questo mi sembra un discorso abbastanza logico, abbastanza terra a terra, per riuscire a comprendere che in realtà non siamo diversi. E abbiamo visto come anche il feto non è diverso, ma è un soggetto in trasformazione, cioè è un soggetto che all'interno della pancia della madre ha una sua attività psicofisica, e una sua attività emozionale che interagisce con il suo mondo. Il mondo del feto è la madre e gli stimoli che giungono dal mondo esterno della madre, filtrati dalle emozioni della madre, giungono al feto. Per cui il mondo esterno, il mondo inconoscibile per il feto, già agisce sul feto attraverso la madre che è il mondo sconosciuto rispetto al feto. Ebbene, lo stesso è ciò che succede agli esseri umani adulti. Cioè esiste un mondo sconosciuto che ci sta attorno e che noi dovremmo col coraggio affrontare, adesso vedremo come il bambino i suoi strumenti, ed attorno a questo mondo sconosciuto c'è un mondo inconoscibile. Non è inconoscibile perché è segreto o non si può conoscere, ma semplicemente perché non abbiamo gli strumenti per conoscerlo. Pertanto l'inconoscibile comunque agisce sul mondo sconosciuto che dopo agisce su di noi. Tolto questo, finito questo discorso, parliamo un attimino del bambino. E parliamo del bambino dal punto di vista della stragonaria, cioè un soggetto che sta costruendo se stesso e pone le basi per il futuro. Però questo soggetto, questo soggetto, il bambino non costruisce se stesso a tabula rasa, ma costruisce se stesso col bagaglio fisico, psichico, emozionale che ha sviluppato all'interno della pancia della madre. Cioè mentre i cristiani a un certo punto sono arrivati al punto di sventrare le donne per battezzare i bambini, ed è un'attività che hanno fatto in maniera veramente squalida, però questo facevano perché i soggetti andavano semplicemente battezzati o bestiame del Dio, poi potevano salmazzati. La stragonaria invece concepisce una trasformazione continua, un continuo divenire degli esseri e in questo continuo divenire, in questa continua trasformazione è fondamentale per gli individui, per gli esseri, essere forniti degli strumenti con cui affrontare la loro vita, per poterla affrontare attrezzati, consapevoli, coscienti, responsabili. Ciò che invece non è possibile per chi viene sottomesso e messo in ginocchio davanti a un Dio cretino, il quale Dio cretino ti ha dato i doni, sei intelligente, non lo sei conquistato tu, ma te l'ha dato Dio, sei abile, non è il tuo lavoro che ti ha portato ad essere abile, ma è il Dio cretino che ti ha dato l'abilità. Ringraziamo Dio per la grande vittoria, non tutta la gente che ha sacrificato la sua vita per ottenerla. Ed è questo il meccanismo che porta del cristianesimo ad essere un'organizzazione inumana, cioè non riconoscere nell'uomo le sue potenzialità e le sue finalità all'esistenza. I bebè parlano con gli occhi. Abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato dell'interazione fra l'uomo e la natura, che non necessariamente la comunicazione avviene mediante le parole. Le parole sono una subforma di comunicazione, una subforma che appartiene alla ragione e che è necessaria per trasmettere informazioni fra esseri umani. Ma nessun essere della natura parla con le parole, anche se attraverso l'emissione delle parole fatte dagli esseri umani, cani, gatti, delfini, elefanti, altri capiscono esattamente quello che tu gli vuoi dire. Ma non perché capiscono le parole, ma perché capiscono le emozioni che tu attraverso le parole emetti nel suono. E in questo caso invece, siccome la nostra specie ha i suoi sensi concentrati sulla vista, il bambino come nasce? Nasce come specie, come specie umana e i suoi sensi sono concentrati essenzialmente sugli occhi. La ricerca di scienziati italiani dalla Repubblica dell'8 novembre 2005. Il neonato imposta relazioni con lo sguardo. I bebè parlano con gli occhi. I bambini parlano con gli occhi, da subito, da neonati. Lo sguardo dice comprende tutto perché attraverso ci passa e si esprimono a caldo il mondo e si imprime a caldo il mondo. Con gli occhi i bebè costruiscono relazioni. Lo dice una scoperta di scienziati italiani pubblicata sulla rivista Prosting of the National Academy of Science. Il neonato ha la possibilità di interazione e comunicazione di sguardi sin dalla nascita ed è pronto da subito ad accogliere tutti gli stimoli che gli vengono trasmessi. Lo studio viene da un lavoro di team diretto da psicologa Teresa Ferroni dell'Università di Padova insieme a Dino Faraguna, direttore del reparto pediatria dell'ospedale di Monfalcone a Gorizia e al Big Back College dell'Università di Londra. Incrociare lo sguardo con gli altri è la forma più potente di comunicazione, spiega la Ferroni aggiungendo che i bambini già a tre mesi sorridono. Mentre quando un adulto sposta da loro lo sguardo durante l'allattamento mamma e bambino si guardano intensamente perché comunicano. Gli esperti hanno spiato lo sguardo di 105 neonati di due o tre giorni di vita con una videocamera, mentre i piccoli guardavano immagini al computer del volto di una donna, foto vere e stilizzate con illuminazioni varie, in modo che in alcune il volto avesse le pupille visibili e in altri no, i neonati anche nei primissimi giorni di vita si orientavano e guardavano di più il volto che si rivolge loro. La capacità così precoce di fissare lo sguardo, dice Faraguna, rappresenta un presupposto fondamentale per il successivo sviluppo della capacità degli individui di comunicare tra loro. Cosa ci dice questo piccolo studio? Ci dice semplicemente che i bambini attraverso lo sguardo comunicano con gli adulti, gli adulti attraverso lo sguardo comunicano con i bambini e il modo che hanno gli adulti di guardare i bambini è un modo che hanno gli adulti di trasmettere dei fenomeni ai bambini. Noi abbiamo perso un po' l'abitudine di considerare una comunicazione attraverso gli occhi. Consideriamo un po' una comunicazione mediante l'aspetto facciale, le smorfie, diciamo così, più che la comunicazione con lo sguardo. Ma in realtà quando noi guardiamo delle cose abbiamo uno sguardo che approva o che disapprova, che è felice, che è contento, che soffre, che è piangente. Abbiamo la capacità in realtà di comunicare tutta una serie di stati emozionali rispetto a una situazione che si verifica. Ora, se la situazione che si verifica coinvolge sia l'adulto che il bambino di pochissimi giorni, il bambino percepisce quella situazione a livello di pelle e percepisce la reazione che ha avuto a quella situazione dall'adulto attraverso il suo sguardo. Pertanto fin dai primissimi giorni di vita inizia quel processo di condizionamento educazionale, di manipolazione mentale, di relazione fra l'individuo e il mondo in cui vive. E questo condizionamento educazionale al bambino gli viene trasmesso dall'adulto. Ecco che un adulto appassionato, un adulto che vive con responsabilità, un adulto che vive coraggiosamente, attraverso il suo sguardo, il bambino, trasmette questo tipo di sensazioni. Ma se il bambino viene lasciato a la nonna che ha paura di tutto, la madre che si mette in ginocchio e non fa altro che pregare Dio, il padre che è disperato o che ha altri problemi. Tutte queste problematiche attraverso gli occhi vengono trasferite al bambino e lui comincerà a costruire le sue emozioni pensando che il mondo in cui sta vivendo costruisce tutte queste contrizioni. Cioè praticamente lui avrà paura di qualunque cosa dovrà affrontare o avrà dei timori o comunque crescendo avrà delle difficoltà maggiori ad affrontare il mondo. Questo significa la comunicazione attraverso gli occhi fra il bambino dei primissimi giorni ed adulto. In pratica fin dai primissimi giorni inizia a formarsi quell'adattamento soggettivo del bambino agli stimoli che dal mondo oggettivo gli arrivano. Se noi teniamo presente questo, allora comprendiamo anche il discorso della stregoneria che dice che gli adulti devono vivere con passione per riuscire a trasferire questa passione al bambino perché è inutile che il bambino gli racconti storie, gli racconti panzane con la bocca. Quello che tu gli trasmetti al bambino nei primi giorni lo trasmetti con le emozioni e le emozioni ti passano per gli occhi e lui legge gli occhi, non capisce le parole, può capire il tono delle parole ma non capisce il senso delle parole ma capisce il senso degli occhi, capisce il senso delle emozioni che tu gli trasmetti. Fate un po' voi, andiamo un po' avanti. Dalla Repubblica del 5 novembre 2005, parlare un istinto già nei neonati, nel cervello umano una predisposizione innata alla grammatica. Cosa significa questo? Significa che la nostra specie ha sviluppato il linguaggio, per cui avendo sviluppato il linguaggio, avendo sviluppato l'area della ragione, avendo sviluppato la corticcia cerebrale, esistono già le predisposizioni per parlare. Naturalmente dovrà formarsi la gola, le corde vocali, dovrà comprendere il senso delle parole, però esiste già la forma base per comunicare con gli altri. Ma cosa ci dice questo se abbiamo una predisposizione natale a parlare? Che a seconda di come noi parliamo ai bambini, e qua siamo già un'età, siamo più nei primissimi giorni di vita con lo sguardo, qui siamo già al primo anno di vita, secondo anno di vita. A seconda di come noi parliamo con i bambini, così sviluppiamo il linguaggio dei bambini. È chiaro questo? Cioè, ciò che le nostre parole indicano e il senso e naturalmente le emozioni che le nostre parole portano, passano al bambino, quel senso e quelle emozioni. Per cui la capacità di parlare al bambino esiste. Come questa capacità andrà a svilupparsi, come questa capacità andrà ad organizzarsi, dipenderà da come gli adulti si rivolgono ai bambini. E qui siamo a un altro discorso da stragonaria in contraposizione al cristianesimo. Cioè, mentre i bambini sono bestiame da allevare per il cristianesimo, la stragonaria dice invece che ai bambini devi dargli tutta la tua passione e tutti i tuoi piaceri che hai nella vita. Cioè, devi trasmettergli tutto quello che gli permette di vivere bene e anche un buon linguaggio. Cioè, una capacità di compenetrare il mondo, di trasmettere con le parole le cose e probabilmente insegnarli a leggere il più presto possibile. Perché è inutile che insegniamo a leggere ai bambini a sei anni, quando hanno la capacità di leggere già a due o tre anni. Insomma, cioè, è una stupidaggine. In pratica si uccide la capacità di lettura dei bambini. Proviamo a leggere un altro pezzetto di questo articolo. L'uomo e il suo linguaggio, una cosa sola, un centro della grammatica nell'area frontale e sinistra del cervello umano. E solo nel nostro sovrintende all'apprendimento di un idioma, qualunque esso sia, e controlla anche la comunicazione per gesti. Un bambino impara qualsiasi linguaggio senza l'usilio del pensiero analitico e senza bisogno di istruzioni grammaticali esplicite. Scrive Kuiyo Shi Sakai dell'Università di Tokyo e un numero speciale di scienze dedicato allo sviluppo del cervello. Non c'è bisogno di scuole per imparare a parlare, sostiene Sakai, almeno fino a quando non si chiude il cosiddetto periodo finestra fra i dodici e i tredici anni di età. In pratica abbiamo un periodo in cui c'è una facilità di parlare, cioè una facilità di apprendimento del linguaggio che dopo un po' alla volta, col tempo, va via. Prendi un attimo, facciamo un piccolo intervento. Aspetta, 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 aspetta. Prova adesso. La Francia di Luigi XIV venne fatto un esperimento. Vennero presi dei bambini appena nati che ancora non parlavano e ci si chiedeva se noi non gli insegniamo a parlare, cioè non sentono nessuno che parla francese. Parleranno in ebraico? Parleranno in aramaico? Qual è la lingua originale? Si pensava che avrebbero parlato nella lingua di Adamo. Qual è successo? Che vennero accuditi da delle balie che avevano l'ordine tassativo di non parlare con i bambini e questi bambini praticamente morirono probabilmente per le poche cure ricevute perché non avevano nessun rapporto con nessuna figura materna, non avevano niente. Praticamente non avevano una quantità di fenomeni, di stimoli dall'esterno che gli permettesse di svilupparsi. Non avevano nessuna ragione per esistere, solo perché uno voleva sapere se i bambini avrebbero parlato in aramaico. Pensate un po' quanti casini ha fatto il cristianesimo. Ok? Purtroppo è un dato di fatto, il cristianesimo ha costruito tutta una serie di superstizioni, tutta una serie di pensieri a priori, idee assurde che ha portato alle persone a fare delle stupidaggini che non finivano più e hanno giocato sulla vita delle persone. Praticamente cosa succede? Succede allora che verso i 13 anni questa finestra di apprendimento del linguaggio si chiude, per cui il linguaggio fondamentale per tutto il resto della vita rimarrà quello che è il linguaggio infantile. Infatti se mi sentite parlare, io che per esempio ho studiato da adulto, ho letto cose da adulto, sentite che spesso ci sono tutta una serie di cadenze venete, più che venete, veronesi, che vengono a interferire nel linguaggio specialmente in certe condizioni insomma, perché quel linguaggio che io ho imparato da piccolo resta sempre. Dopodiché possiamo vedere che in altri studi, che è stato fatto sul cervello nell'età adulta, imparare altre lingue forza quella che è quell'area, cioè la costringe a forzarsi, a cambiare, a modificarsi ed a ampliarsi. E più lingue si studiano, lingue ma anche altre cose, si aumentano le connessioni cerebrali e praticamente si va a invadere quell'area del cervello che dopo se non viene invasa, se viene lasciata perdere, porterà dopo al morbo di Alzheimer. Una delle ultime scoperte che ci è stata fatta relativa al morbo di Alzheimer è che il morbo di Alzheimer viene ad attaccare quelle aree del cervello che praticamente sono state lasciate perdere. per cui tanto più è grande la quantità di studio, tanto più è appassionata l'attività di una persona e tanto più va a completare tutte le aree del cervello e va a bloccare quella che è la loro degenerazione. Ma questo ne parleremo quando saremo in altra situazione. Pertanto il linguaggio, noi abbiamo una forma base sulla quale tutti gli uomini parlano, cioè tutti gli uomini comunicano attraverso la parola. La lingua, la cultura, il tipo di parole e la qualità nell'uso della lingua è determinato dall'ambiente. Pertanto tanto più noi ci rivolgiamo ai bambini con un linguaggio serio, tanto più apprenderanno. Finché ci saranno delle mamme gnègnè e dei papà gnègnè nei confronti dei bambini, avremo sempre dei bambini menomati. E questa menomazione è una condizione culturale del cristiano, che dice che il bambino è scemo. Cioè il cristiano è talmente deficiente nella sua auto-identificazione con la creazione del Dio padrone, che non riesce a cogliere quelle che sono le trasformazioni. È quello che sto vedendo anch'io nel sistema sociale in cui viviamo. Quando si prende una decisione, non è che quella decisione sia una cosa a sé stante, il colpo di bacchetta magica e basta. No, quando si prende una decisione si modifica tutto un insieme dove quella decisione va a cadere. Allora, prima di prendere questa decisione, io devo sapere come l'insieme all'interno del quale io decido, che sia una struttura familiare, che sia una struttura sociale, che sia una struttura di lavoro, va a modificarsi per la decisione che io ho presa. Perché la decisione che viene presa porta, costringe l'ambiente a modificarsi, ad adattarsi alla mia decisione. Pertanto, prima di prendere la decisione, devo sapere quali modificazioni io voglio ottenere. Questo è assolutamente ignorato dal cristianesimo, perché tanto nessuno può toccare la creazione, nessuno può manipolare la creazione del Dio padrone. I bambini si possono stuprare perché non si danneggia la loro anima. Ed è un'idea che appartiene al cristianesimo, che dopo avesse anche degli spunti nel neoplatonismo, dove l'anima viene da fuori, il corpo è solo un vaso, è solo un coccio che contiene l'anima, porta a tensioni basse, per cui c'è tutta una serie di cose che dopo vengono a mescolarsi. Però è il concetto fondamentale, secondo cui ciò che è creato da Dio non si può modificare. Per cui le persone sono solo oggetti, no? Si squartano le donne, stiano fuori i bambini, si battezzano e poi si uccidono. Ed è una cosa che è stata fatta. Andiamo ancora avanti con i bambini. Cosa pensano i neonati? Naturalmente ho selezionato un certo numero di articoli, poi ti viene in mente che ce ne sarebbero altre 50 da selezionare, solo che ormai ho preparato in questo modo. Nel cervello di un neonato indifeso e apparentemente inconsapevoli di tutto accade molto più di quanto abbiate mai potuto supporre. Nuove ricerche stanno inducendo i pediatri e gli psicologi infantili a cambiare le loro convinzioni di lunga data sulla crescita emotiva e intellettiva dei bambini anche molto piccoli. Nel 1890 lo psicologo William James scrisse come una grande inesauribile e animata confusione la visione del mondo dei neonati. Questo principio rimase indiscusso per quasi un quarto di secolo. I neonati erano creature del cervello assai poco sviluppato, che si limitavano a imitare chi stava loro intorno e che davano prova soltanto di emozioni più semplici come la felicità, la tristezza e la rabbia. La scienza odierna invece dà adesso un quadro del tutto diverso di quello che accade nel cervello e nell'animo dei neonati. Padroneggiano emozioni anche molto complesse come gelosia, simpatia, frustrazioni che un tempo si riteneva imparassero verso i tre o quattro anni. Due o tre anni. I neonati di quattro mesi hanno già capacità avanzate di deduzione, nonché l'abilità di decifrare dei disegni anche complessi. Hanno una paletta visiva piena di sfumature che permette loro di notare anche le più piccole differenze, specialmente nei volti, una dote che gli adulti e i bambini più grandi perdono. è da sottolineare perché a mano a mano che la comunicazione si trasferisce dagli occhi, cioè dalla capacità visiva, al resto dell'apparato cerebrale, cioè alla parola, al senso, all'udito, alla vista, al gusto. Cioè esiste una diversificazione di quello che è la percezione del mondo per cui mentre l'attenzione era più concentrata sugli occhi all'inizio della loro nascita, via via si diffonde, per cui c'è una perdita di attenzione sugli occhi. Il problema è che noi la possiamo recuperare è quello, cioè non è che l'abbiamo persa in assoluto, infatti gli esercizi di astragonaria che vi ho insegnati nei primi dieci dibattiti, fermare il dialogo interno, la contemplazione, la meditazione, chiamare le cose con il loro vero nome, ascoltare le correnti vegetative, l'uso della volontà, le determinazioni, eccetera, portano invece a ri-acutizzare quello che è la capacità dell'uso dei sensi, proprio nell'osservazione e nella percezione delle cose. Dopo magari ci va anche via di testa, se non si ha autodisciplina sufficiente. Però porta a ri-acutizzare quella che è la nostra attenzione sui sensi. Pertanto diciamo che già il bambino più grande e già l'adulto non riescono più a comprendere la capacità di osservazione del bambino piccolissimo. Non solo questo, ma ricordate un'altra cosa, il bambino piccolissimo che osserva le emozioni mediante gli occhi non è condizionato, cioè nel senso che non è ancora stato condizionato la sua capacità di vedere le cose. Pertanto ciò che coglie è ciò che coglie ancora al di fuori dei condizionamenti. I condizionamenti si costruiranno in quel momento quando la sua capacità visiva di cogliere le cose avrà delle reazioni negative. Cioè praticamente ho visto una cosa, reagisco per quella cosa, mia madre mi ha urlato e allora non posso più esprimere quella emozione, quella visione che ho avuto perché altrimenti mi arriva un fenomeno repressivo dall'esterno. E là comincia il condizionamento educazionale che è praticamente l'imposizione di parametri morali, di parametri di giudizio, di parametri etici che cominciano a frapporsi, cominciano a bloccare lo sviluppo emotivo del bambino. Andiamo ancora avanti questo articolo. Una delle prime emozioni che provano i bambini anche piccolissimi è l'empatia. Anzi forse nel cervello rinunati già esiste la capacità di preoccuparsi per gli altri. Anche questo discorso dell'empatia che lo porteremo avanti anche fra gli adulti nel cervello è praticamente l'assonanza che esiste fra un soggetto e il mondo che ci sta attorno. Questa assonanza, questo vivere assieme fra noi e il mondo, piccolo o grande che sia il mondo, cioè può essere quello familiare, quello con la madre oppure il mondo intero, l'universo, come praticato da chi pratica stragonaria, è una delle prime doti che noi abbiamo dentro di noi, cioè una delle prime cose che noi abbiamo dentro. E questa funzione empatica è quella che per esempio ha salvato molti bambini abbandonati da animali, cioè in pratica la capacità dei bambini di percepire le emozioni del mondo, di farle proprie e di far propri bisogni del mondo. E anche in età adulta questa capacità che il cristianesimo uccide, proprio perché dice tu sei padrone del mondo, tu ti ha creato Dio, tu non devi metterti al servizio del mondo, è il mondo che deve mettersi al tuo servizio e costruisce questa barriera di separazione, uccide quella che è una delle capacità psichiche fondamentali, che è per esempio la solidarietà sociale, che è la solidarietà col mondo, che è la capacità di vivere assieme. Infatti il cristianesimo pratica la carità per uccidere la società civile. Chiunque ha dato una sola lira ai cristiani non ha fatto altro che uccidere la società civile. Bene, la dota empatica, quando viene sviluppata in stragonaria, succede che la percezione del soggetto di chi pratica stragonaria, lo porta a percepire tensioni ed emozioni del mondo che gli sta attorno. La condizione empatica del bambino è la prima condizione che lui sviluppa, specialmente nei confronti, diciamo così, del mondo più importante, della madre, dove risultare simpatico alla madre non è semplicemente una dote che macchie bei i bambini, ma è una dote di sopravvivenza, perché quei bambini che riescono a ruffianarsi meglio la madre, sono quei bambini, specialmente in crisi, specialmente i leoni nel Sahara, tanto per fare un esempio, riescono a sopravvivere perché hanno una maggiore protezione da parte della madre. Cioè è una strategia di vita, non è ma come sono buoni e bravi, no, è proprio una strategia di esistenza, che è fondamentale, certo ci fa piacere vederla, però è una vera e propria arte di guerra, guerra per la vita. Andiamo avanti ancora. Se si sistema un neonato accanto ad un altro che sta piangendo, con ogni probabilità finirà per piangere. Secondo Martin Hoffman, docente di psicologia dell'Università di New York, sin dalla nascita vi ha qualche primigenia forma di empatia. I bambini sopra i sei mesi invece non piangono più, sentendo altri bambini piangere, ma fanno smorfie per evidenziare la tristezza che provano per gli altri. Dai 13 ai 15 mesi i piccoli tendono a prendere le faccende di petto e cercano di consolare il compagno di giochi in lacrime. Parta dell'empatia potrebbe essere il prodotto di un'altra precoce abilità dei neonati, la capacità di discernere le emozioni e le espressioni del viso delle persone che li circondano. Diane Montaguay, assistente e professoressa di psicologia dell'Università La Sala di Philadelphia, ha condotto degli esperimenti ricorrendo al gioco del cucù e ha reclutato decine di bambini di 4 mesi per sottoporli al testa. È iniziato il gioco con un gran sorriso. I neonati ne sono stati deliziati e l'hanno fissata con grande attenzione. La quarta volta però la dottoressa si è presentata con un'espressione di profonda tristezza sul volto. Questa volta non soltanto i bambini hanno distolto lo sguardo, ma non sono più tornati a guardarla, anche quando ha ripreso a sorridere. Il rifiuto a instaurare un contatto visivo è un classico segno di angoscia dei bambini. In seguito un volto con un'espressione adirata ha attirato nuovamente il loro sguardo, ma i loro volti non hanno evidenziato piacere, sono parsi in allerta, dice Montagné. Questo dimostra che i bambini sotto i 6 mesi sono in grado di capire le espressioni del volto. E qui andiamo avanti a continuare il discorso che abbiamo iniziato. E passiamo ad un altro articolo perché a un certo punto anche ormai il crogiò dello stragone, io lo sto facendo in questa radio dal 1997. È dal 1997 che io vi parlo della stragoneria e del percorso di stragoneria. D'altronde mi avete obbligato voi a costruire questa cosa, anche perché volevate sapere cos'era la stragoneria e come funzionava. In realtà mi avete fatto un grande piacere perché probabilmente non avrei mai messo ordine su queste cose. Quando si parla di stragoneria tutti pensano a cappe nere, pipistrelli e qualcos'altro. In realtà la stragoneria è l'arte di vivere, l'arte di essere consapevoli del mondo che ci circonda. Ed essere consapevoli perché io sono consapevole è una cosa, essere consapevoli perché esistono delle cose da trasmettere agli altri affinché siano consapevoli e un'altra cosa ancora. Riuscire a dimostrare questo con delle prove scientifiche è la mia fortuna. Nel senso che parlando di stragoneria dal 1997 al 2006 io sono fortunato e posso leggere tutta una serie di articoli a dimostrazione di quello che vi sto dicendo e penso che a nessun stregone finora sia andata così bene. Andiamo avanti. La Repubblica, 19 febbraio 2004. Studiate la mente dei vostri figli. Dal neonato al bambino all'adolescente ecco le tappe. Qui siamo nel 94, siamo molto prima delle ultime scoperte, siamo un paio di anni fa. L'essere genitori significa imparare a seguire lo sviluppo cerebrale dei figli. Vuol dire coltivare, selezionare le attitudini, aiutarli ad allentare e a mettere in fila i pensieri perché il lungo viaggio del cervello durante l'infanzia e l'adolescenza segna cambiamenti rapidi fondamentali e riconoscere i bisogni di bambini e ragazzi secondo le loro tappe progressive è il primo passo per diventare bravi educatori. L'età della mente di Alberto Oliviero e Anna Oliviero Ferraris Rizzoli aiuta a comprendere l'evoluzione umana. Connette il passare del tempo ai mutamenti di piccoli teenage e adulti. Offre a padri e madri la possibilità di osservare i cambiamenti progressivi dei figli di capire come maturano. Se voi avete osservato, almeno io l'ho visto centinaia di volte, i genitori dire ai figli tu non sei bravo, tu non capisci niente, tu sei deficiente, vuoi mettere l'adulto come sono bravo, come sono intelligente? Eh tu sei un povero deficiente, tu sei brutto, tu sei brutta, alcune madri c'erano le figlie, io invece sono più bello. Cioè questa necessità dell'adulto di omigliare i figli a proposito, la corte di cassazione ha già bocciato questo atteggiamento, ha già detto che questo atteggiamento è un atteggiamento criminale, tanto per essere chiari. Fa parte degli atteggiamenti dei cristiani, cioè il cristiano creato di immagine e somiglianza del Dio padrone non si sta rendendo conto che il figlio si sta costruendo, si sta trasformando. Tanto il figlio è creato di immagine del Dio padrone, dunque il figlio non è bravo, non è capace, non sa fare le cose, non ci si rende conto che invece le cose possono cambiare da un giorno all'altro. A volte si può usare certe stimolazioni, si può dire non lo sai fare, non lo puoi fare, proprio per stimolare la reazione. Ma quando c'è una autoesaltazione dell'adulto non è altro che l'autoesaltazione dell'adulto che si identifica con il Dio creatore. Io sono bravo, Dio mi ha creato a me bravo, mi ha dato a me i doni, a te ti ha fatto un povero deficiente, sei povero deficiente figlio mio. E invece non ci si rende conto che le cose sono in una trasformazione continua. Il problema per l'adulto, quando l'adulto non si rende conto che le cose sono in una trasformazione continua e un continuo divenire, è che l'adulto non si rende più conto che lui stesso ha fermato il suo continuo divenire. Ha fermato le trasformazioni che sono dentro di lui e sta iniziando a morire. Quando un vecchio fa braccio di ferro con un giovane per dimostrare che ha ancora forza, vuol dire che è proprio vecchio. Non c'è niente da fare. Quando il personale dice che ho una certa età ma sono ancora in gamba, alla tua età saltavo e poi fossi per lungo, come si dice in certe battute, in realtà si è già vecchi, si sta già morendo, c'è una parte di noi che sta già morendo dentro di noi. Per cui, questo vorrei dire, studiate la mente dei vostri figli, ma studiatela nel modo che sta cambiando, siate consapevoli delle trasformazioni che avvengono. Se oggi non sono, domani saranno, ma siete voi che dovete fornire degli strumenti perché ciò sia. Se poi li mandate a catechia, vuol dire che volete proprio ucciderli i vostri figli. Passiamo e saltiamo, visto che sono gli 54 adesso, passiamo ad un altro discorso. Attenti al disagio dei bimbi. Cambiare il futuro si può. Questo è un articolo della Repubblica del 28 febbraio 2004. Da 30 anni lavoro come neuropsichiatra infantile. Ma da 4-5 anni ho cominciato a vedere cose che mi inquietano, depressioni profonde che prima si manifestavano solo negli adulti. Ora me ne trovo di fronte in bambini di 10 anni, psicosi, costruzioni deliranti, cosinette e strutturate ad appena 8 anni di età. Ragazzi che vogliono morire, eppure si stanno appena facciando la pubertà. La depressione sta invadendo l'adolescenza, sia come numero di casi che in termini di gravità. Le affermazioni dure di Francesco Montecchi contrastano con la sua voce calma. Lo studio pieno di sole e giocattoli e un allegro tra papillo. Il primario di neurochirurgia infantile è intervenuto ieri al congresso delle società italiane di psicopatologia in corso a Roma. La colpa del male di vivere nei giorni d'oggi? Difficile dirlo. Forse sono i grandi centri urbani, suggerisce. No. È l'educazione cristiana. L'educazione cristiana che al giorno d'oggi si inserisce in un contesto dinamico estremamente più complesso che non 40 anni fa. In pratica la società di oggi è estremamente veloce, è estremamente dinamica e mentre 40 anni fa l'educazione cristiana veniva nascosta, veniva occultata da sistemi di vita molto più lenti e molto più poveri di fenomeni che giungevano all'esterno, oggi che la vita sociale è estremamente più veloce ed è estremamente più ricca di fenomeni, l'educazione cristiana è la vera fautrice, la vera costruttrice della depressione infantile e del disagio sociale. Lei, il cristianesimo, fa una sola cosa, stupra bambini costringendo i ginocchi davanti a un crocefisso. E quando i bambini vengono stuprati, costretti in ginocchi davanti a un crocefisso, quali strumenti volete che abbiano per affrontare le dinamiche della vita sociale che si svolgono in questo momento? E' ovvio che sono disarmati, disarmati, incapaci di affrontare i problemi, depressi, incapaci di esprimere se stessi, incapaci di sapere che la vita ha tempi di trasformazione, tempi di divenire e tutto questo è opera del cristianesimo che impone alle persone di considerare se stesse create da immagini assomigliate a un Dio pazzo cretino e deficiente. Poi volete che non gli dia a quel Dio del pazzo cretino e deficiente uno che mi lanta di aver creato il mondo, ma gliene dico anche di peggio. Andiamo avanti ancora. Osservare i comportamenti dei più piccoli può essere utile per cogliere in tempo i segnali del loro disagio e schiacciare sul nascere gli embrioni di eventuali future patologie. La salute dei bambini è la chiave di quella degli adulti, sostiene Mauro Mauri dell'Università di Pisa. Alcuni comportamenti, confermo a Montecchi, mettono in evidenza una situazione di rischio. Qui c'è un'altra cosetta da dire, quando la patologia si sta manifestando nel bambino, gli errori sono già stati fatti, cioè la distruzione della capacità di divenire del soggetto è già avvenuta, è già in atto, per cui non schiacciate più niente quando si comincia a manifestare la forma patologica. L'unica cosa che potete fare è dare motivazioni di vivere, cioè dare motivazioni affinché l'individuo ricompatti se stesso e costruisca nuovi progetti di vita. Però non schiacciate più niente, cioè la depressione comunque arriva, bisogna risolverla e si risolve quando si hanno nuove motivazioni, quando si ristruttura completamente la propria esistenza. Andiamo ancora avanti. Questo non vuol dire che necessariamente i bambini si ammaleranno, ma solo che stanno covando un disagio. Se riusciranno a superarlo o no, dipende sia dal contesto esterno che dalle risorse individuali. Ma quali sono i segnali a cui prestare attenzione? Nei primi anni di vita, sostiene Massimo Ammaniti, professore di psicopatologia dello sviluppo della Sapienza di Roma, sono i disturbi del sonno e dell'alimentazione, lo svezzamento è un momento difficile per tutti i bambini. Ma se il rifiuto del cibo perdura nel tempo, occorre stare attenti, il disturbo alimentare potrebbe presentarsi con l'adolescenza. Il sonno, sottolinea anche Montecchi, è un indicatore per misurare la tranquillità di un bambino. È un momento di separazione, non sappiamo chi troveremo accanto a noi risveglio. Difficoltà ad addormentarsi, risvegli ripetuti, accompagnati da pianto inconsolabile, tendenza a dormire di giorno e non di notte, possono essere indici di ansia. Quando preoccuparsi? Quando in ansia entrano anche i genitori, suggerisce Spiazzante Montecchi, un'attenzione particolare per i bambini molto irrequieti, ma anche per quelli troppo calmi, che tendono a farsi dimenticare e poi magari esplodono all'improvviso. I ragazzi troppo bravi a scuola o quelli eccessivamente precisi potrebbero finire nella trappola di disturbi alimentari, più spesso le ragazze o di quelli ossessivi e compulsivi, maschi. Ma il compito più difficile per un genitore è distinguere situazioni preoccupanti da quelle destinate a risolversi da sole. Montecchi suggerisce una regola, quando un comportamento è rigido, ripetitivo e slegato a una situazione contingente, non è decifrabile da parte dell'adulto e disturba la vita del bambino, allora è il caso di preoccuparsi. Quando invece i sintomi accompagnano un momento di crescita e si possono spiegare una situazione di sofferenza, allora probabilmente il disagio passerà. Come vedete da alcuni anni questi guai hanno preso consapevolezza della cosa da 5, 6, 7 anni. Guarda caso, da quando noi parliamo del crogiolo dello stregone abbiamo preso la consapevolezza della cosa ben prima e ne stiamo parlando per radio del 1997. In 1997 sono passati quasi 10 anni, 9 anni. Fate un po' voi a spanne, insomma. Bene, ma che ci fosse consapevolezza che nella società monoteista, nella società cristiana, in realtà i sistemi educazionali vanno a distruggere le persone, vanno a distruggere gli individui, non è che lo sostengo solo io come pagano politeista, lo sostengono anche tutti gli studiosi, soltanto che gente come Scola, gente come Matteazzo, gente come Ratzinger, gente come Ruini, praticando l'attività di mafia, tendono a nascondere la loro attività per attribuirla a soggetti diversi e questo è molto grave. Convegno internazionale Abano, 12 settembre 2003, il gazzettino. I bimbi non sono da domesticare, Morelli mette sotto accusi i genitori. E a giudicare dall'attenzione che il pubblico gli ha riservato, Morelli non ha certamente deluso le aspettative. La sua relazione è durata un'ora, al termine un lungo applauso ha dimostrato l'entusiasmo degli ascoltatori. La magia del cervello incantato era il titolo dell'intervento ed in effetti il professore ha parlato proprio della particolare capacità del bambino di non essere prigioniere di schemi e pensieri, ma di vivere nell'eterno presente in cui tutto è possibile. Una capacità che evidentemente si scontra con la nostra cultura dello standard, con la nostra cultura, no dello standard, del cristianesimo, del profitto e del nozionismo, ma dalla quale invece ci sarebbe molto da imparare. Morelli ha criticato duramente la scuola moderna e le stupidaggini che insegna, oltre all'atteggiamento della maggioranza dei genitori che secondo lui vorrebbe addomesticare i figli a propria immagine. E se questo non è il cattolicesimo mi dite voi che cos'è? Se questo non avviene, questi genitori non esitano a somministrare i loro psicofarmaci come succede in America, per cui i bambini ipervigili e disattenti. A proposito del rapporto con i media, Morelli ha affermato che è necessario combattere la pubblicità che porta all'obesità e la concezione della TV come propositrice della cultura dell'apparire, perché essa rappresenta in realtà la vita. Interrogato per un parere sul caso della giovane madre padovana infanticida, Morelli si è rifiutato di rilasciare commenti. Non parlo di delitti, perché la psicologia si deve occupare della vita. Infatti, quando avviene il delitto significa che non ci sia occupati della vita, tanto per essere chiaro. Quando le madri abbandonano i bambini nei cassonetti, torno a ripetere Ratzinger che dovrebbe stare in galera, vuol dire che abbiamo ignorato quello che è l'ABC della nostra società civile e se è stato ignorato lo è stato ignorato dal punto di vista educazionale, lo è stato ignorato dal punto di vista dell'applicazione delle leggi e della comunicazione delle leggi. Per questo Ratzinger dovrebbe stare in galera, perché ha costretto bambini a pregare, anziché costringendoci a quei bambini ad approfittare di quelli che sono i loro diritti e i loro doveri sociali. Praticamente non ha costruito cultura, ha preferito costruire non cultura, costringendole a pregare come degli ossessi. bene, andiamo ancora avanti. Sì, perché quello che appare abbastanza strano, diciamo così, è quando abbiamo cominciato a parlare di stregoneria, di magia, di trasformazione dell'uomo, tutto il mondo si è messo in moto a parlare di trasformazione dell'uomo. Non è che noi ne abbiamo parlato e il mondo si è messo in moto, chiaramente, ma esiste quella forma di empatia, cioè quella forma che lega chi pratica stregoneria con il mondo che lo circonda, né percepisce le tensioni, né percepisce le trasformazioni e dopo nella sua vita quotidiana, in base alle sue esigenze, io sono qui per radio che vi sto parlando di stregoneria, di magia e di paganesimo, chiaramente in base alle mie esigenze percepisco quelle che sono le trasformazioni del mondo e a volte le anticipo anche. Non c'è assolutamente nulla di strano perché viviamo in questa cultura e da questa cultura andiamo a pescare, però ricordatevi che questa cultura ci dà tutto e il contrario di tutto, sta alla nostra autodisciplina scegliere quali sono le cose che hanno validità e cose che non hanno validità. Si vendono centinaia di migliaia di Bibbie al giorno e là c'è scritto che l'uomo è creato di magia e somiglianza di un Dio pazzo cretino e questo è un dato di fatto. Se questo fosse vero, cioè se quella Bibbia avesse un minimo di ragione di essere e non fosse una vera e propria organizzazione di truffa e di genocidio dell'uomo, chiaramente avrebbe a sua volta migliaia e migliaia di dimostrazioni che l'uomo è creato di magia e somiglianza del Dio padrone. Ma dal momento che la parola di Dio dei cristiani è una truffa, è un inganno, chiaramente non trovate nessuna dimostrazione razionale che l'uomo è creato di magia e somiglianza da un Dio padrone, perché è una truffa. Da bimbi timidi ad adulti ansiosi, scoperto il loro segreto, leggono male le facce degli altri. E intanto cominciamo a affrontare questo. Cos'è che abbiamo detto prima? Abbiamo detto che la prima dote del bambino è quella di osservare gli occhi, comunicare con gli occhi, percepire i fenomeni con gli occhi. Dopodiché si trasforma a quello che è l'apparato cerebrale e la comunicazione passa attraverso altre forme. Scoperto il loro segreto, leggono male le facce degli altri. Per i bambini più timidi, candidati ad essere adulti ansiosi, c'è una strana espressione negli occhi di chi li guarda. Qualcosa di indecifrabile nel volto, che fa loro sbagliare giudizio sulle reali intenzioni degli altri. Scambiare uno stato d'animo per un altro e rendere difficile e qualche volta impossibili, le normali relazioni umane fatte anche di linguaggi non verbali. C'è una cosa in questo, che è venuta fuori qualche anno fa, ma la sto sempre più notando a livello comportamentale, anche in ambiente pagano, anche in ambiente vicano. Cioè, in pratica, che cos'è la conoscenza? La conoscenza è la capacità dell'uomo di comprendere alcuni meccanismi della vita, dell'esistenza, e di riversarli nella vita facendoli attraversare da se stessi, cioè dalla nostra interpretazione. Ora, la conoscenza era importante 30, 50, 100 anni fa, 200 anni fa. Riuscire a capire dei meccanismi della vita, per esempio, riuscire a capire che il bambino era in trasformazione, era in crescita, e riuscire a rivolgersi al bambino con l'atto, cioè con la predisposizione mentale, che il bambino era in trasformazione, era un atto di conoscenza. Oggi come oggi, invece, cosa fa una persona? Piglia un manuale, si legge e recita. Cioè, le cose che legge non lo attraversano come persona e non riversa più nella società filtrando a se stesso quello proprio animo, quella propria trasformazione. È come se le persone fossero diventate tanti attori, no? Che imparano una parte, la imparano a memoria e la recitano. Per cui, anche se magari in un film due attori sono dei grandi amici, uno fa la parte del buono e uno fa la parte del cattivo, deve riuscire a recitare la parte con tutte le espressioni facciali, con tutta l'espressione degli occhi, con tutta l'espressione dell'animo, come se il suo amico fosse il peggiore degli assassini, il peggiore dei criminali. In pratica, si riesce ad imparare tutta una serie di capacità espressive che portano all'inganno. E queste capacità espressive che vengono imparate, come degli attori che recitano sulla scena della vita, portano ad ingannare i bambini. Ma che bel bambino che sei, se potessi ti butterei giù dal ponte, ma che bello che sei! Cioè, in pratica, quelle che sono le nostre espressioni apparenti vengono a mascherare quelle che sono le nostre predisposizioni interiori. E questo effettivamente costruisce un grande inganno, specialmente nei confronti dei bambini. Perché quando dice, ma che bravo che sei, gli arriva un ceffone. Non riescono più a capire se quell'uso degli occhi o quell'uso delle espressioni portava a uno stato d'animo disponibile o si riporta a ricevere un ceffone. Cioè, in effetti, si crea veramente un grandissimo handicap. Perché ormai, oggi come oggi, siamo abituati ad usare la cultura come se fosse conoscenza. E spesso le persone scambiano cultura con conoscenza. Informazioni per sapere. E non riescono a capire la differenza che c'è fra i due. Cioè, la conoscenza e il sapere sono quelle cose che ti trasformano. Sono quelle cose che usi normalmente, come se fosse il tuo pane quotidiano. Le informazioni, invece, sono quelle cose che usi, non so, tipo un esame universitario. Uno si è studiato, non so cosa dire, storia antica, ha dato l'esame, piglia il libro di storia antica, lo butta, non so, magari lo vende al mercatino e poi della storia antica non ne frega più niente. Cioè, ha dato l'esame, lui sa, ha il certificato, ha la medaglia, conoscenza di storia antica, ho la medaglia. dopo di lui non gliene frega niente. E ti resti da memoria magari quattro cose, però non l'hanno attraversato, non lo hanno emozionato quelle cose. Non hanno modificato il suo animo, non l'hanno fatto adirare, appassionare, gioire. E per cui ha le informazioni, ma non ha la trasformazione. E la conoscenza è ciò che ti porta alla trasformazione, piccola e grande che sia. Mentre invece l'informazione è solo una cosa che usi. E così in realtà è l'inganno che gli adulti fanno ai bambini. Ma forse sì. Cioè, quella volta che un bambino piccolo, magari pochi giorni, viene visitato dai parenti, ma che barba! Gli è andato al figlio, oggi non devo andare a vedermi la partita di calcio, devo andare a trovare. È stata disgraziata che gli è andato al figlio per fare la bella scena, perché sennò mio parente là si arrabbia con me. Ma che bel bambino che sei nato! Ma li mortacci tu! Non potevi nascere tre giorni dopo che almeno mi vedevo la partita di calcio in pace! Cioè, praticamente non si sa bene, il bambino non riesce a comprendere quando certe espressioni sono portatrici di una certa funzione o non sono portatrici di un'altra funzione. In pratica cosa fa l'adulto? Uccide la capacità del bambino di crescere, perché lui deve recitare la sua parte. Ed è sintomatico tutto questo. 16 e 12 minuti, andiamo un po' avanti e andiamo ad affrontare un aspetto un po' scabroso, che è l'ultimo aspetto che affrontiamo di oggi.